vai seconda sinistra mezza vai 150 stai a sinistra attenzione destra mezza vai 100 sinistra più in destra media più attenzione al ponte seconda sinistra mezza sinistra più apre in destra media più al ponte scusami 200 ricorda attenzione destra meno meno su dosso taglia ritarda destra media indosso quasi pieno 150 sinistra più 200 attento al numero stai a sinistra su destra più 50 sinistra più in invito destra meno meno per in prima tornante sinistro ritardalo eh bravo danieri destra più in sinistra più 50 destra più in invito seconda sinistra meno in tornante destro 50 seconda sinistra media chiude in dos in destra più attenzione ricorda seconda sinistra mezza in destra più 30 sinistra più in destra più in invito destra meno meno in prima tornante sinistro più veloce più veloce più veloce sinistra più lunga ritarda prima tornante destro stai largo sinistra più stai a destra destra meno meno in prima tornante sinistro 50 sinistra più corda in destra più attento accenno sinistro per destra meno meno in prima tornante destro in sinistra più 50 stai tutto a sinistra attenzione dosso più in corda 50 attenzione destra meno su grata sinistra meno in destra meno meno occhio eh in sinistra meno meno in sinistra meno meno attenzione frena shikan entra a destra vai per un bel 200 sinistra media più seconda destra meno frena shikan entra a destra non tagliare occhio qua eh destra meglio più in sinistra meglio più in destra meglio lunga in seconda sinistra mezza invito sinistra meno in prima tornante destro destra più sinistra più apre chiude in terza sinistra media meno in sacrifica seconda sinistra meno chiude in meno meno in destra media chiude occhio in sinistra media meno apre chiude in sinistra media più invito destra meno in prima tornante destro vai di leva qua vai spettacolo sinistra più in destra più attenzione sinistra media meno frena invito seconda destra meno meno in prima tornante sinistro 150 frena la scala prima tornante destro stretto vai spettacolo sinistra più in destra più 50 di tutto a Grazie.